Musica Riprendiamo gentili amici telespettatori la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Melito Portosalvo in provincia di Reggio Calabria siamo sulla costa ionica una trentina di chilometri dal capoluogo è Domenico Salvatore che vi parla vi saluto e vi auguro buona scolta e buona visione vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecanico Reggio Mediterranea risultato del primo tempo 0-1 autore battaglia sul rigore al settimo minuto dirige il signor Ivan Aliano le formazioni annunciate nel primo tempo Borgo Grecanico Tringali, Violi Pangallo Fuoti Mangiolo Romeo, Gelione Neri Zerbi, Achino e Bertone Reggio Mediterranea Fosso, Dumbià, Tomasello battaglia De Filippo, Quattrone Pitasi, Passaro Zema, Cento e Malara Abbiamo avuto già modo di dirvi, di riferirvi sul primo tempo di questa partita giocato a viso aperto a mole squadre il risultato poteva essere di parità ma la squadra ospite ha rivendicato anche un calcio di rigore i padroni di casa hanno spiorato comunque la marcatura in diversi frangenti e hanno risposto colpo su colpo nel secondo tempo ancora c'è qualche raggio di sole ma la temperatura rimane bassa in picchiata come ha annunciato nei giorni scorsi il colonnello Bernacca tra virgolette vanno in onda i giorni della merla che fanno sognare l'anticiclone delle azzorre e che però fanno indossare guanti, cappello, sciarpa, passamontagna, lupetto, maglie, magliette e maglioni in lana merina o cashmere e poi anche cappotti, baltova, strani, giacconi, scarponi e scarboncini timberland o lamberjack nel secondo tempo ovviamente i padroni di casa si schierano alla destra casacca canarina e l'arreggio mediterraneo alla sinistra possiamo definirli blues ma non hanno niente a che vedere col celsi buona buona dai giochiamo giochiamo il lancio di capitano mangiola viene sospinto lateralmente iachino questo è malara s'arrabbia di brutto mister princiotta palla in palla laterale si gioca nello spazio stretto spazio stretto di mano a largo del culo palla di Foti per Bertone gioco di gambe circondato da 4-5 avversari finisce col perdere palla ma conquista una rimessa laterale acquidata in questo caso a Foti Stefano Foti viene marcato a vista Bertone eeeh 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 malara la porge a battaglia eeeh 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 da questi verso Passaro in posto di palla Dumbià eeeh 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 ma che cazzo dici la palla rimbalza sul braccio di un difensore per l'arbitro e calcio di rigore eeeh 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 c'è anche il primo cartellino giallo del match ma non c'è per una meraviglia signori ma non c'è per una meraviglia ammonito potrebbe essere Zerbi che se spara la palla c'è uno rigore ma secondo consecutivo calcio di rigore per gli ospiti tiro parata bravo bravo ha fatto come nel in occasione del primo calcio di rigore si è buttato da una parte bravo Andrea bravo stavolta ci ha azzeccato mandalo mandalo ed è riuscito a neutralizzare il calcio di rigore battuto come di consueto da battaglia miracolo dunque di Tringali che è riuscito a neutralizzare un calcio di rigore battuto da battaglia al quinto minuto del secondo tempo sta per entrare in campo un noto personaggio del maro simone bravo Iachino bravo bravo Noacuo Obinna esce Iachino Masi andiamo oh rimessa già battuta si gioca su ogni palla senza cattiveria ma in maniera vigorosa, atletica, maschia giumbia cross e si sgranocchia un gol grande come una casa anche perché Pitasi ha tirato quasi a botta sicura ma un difensore è riuscito con la suola della scarpa a intercettare la sfera rivendica un altro calcio di rigore, battaglia ma l'arbitro non è d'accordo stavolta e anzi lo ammonisce per proteste due ammoniti uno per parte il risultato è sempre in favore degli ospiti 1 a 0 l'autore del gol battaglia è riuscito a farci ammonire ancora in possesso di palla lui va al dribbling intanto è terminato a terra afflitto da crampi un giocatore ospite viene soccorso da compagni avversari a corre l'arbero il gioco è fermo, 9-12 nel secondo tempo sempre 1 a 0 l'unica rete brilla come la stella polare è quella segnata da battaglia su calcio di rigore, battaglia che al quinto del secondo tempo ha avuto la palla per mettere il risultato in cassaporte ma è stato bravo Tringali che si è scatapasciato in orizzontale ed è riuscito a neutralizzare il penalti chiediamo scusa anche ai nostri telespettatori per la voce che non è quella consueta abituale per Raucedine ma anche perché l'influenza comunque circola e si fa sentire intanto c'è una sostituzione nelle file ospiti sta per entrare Lagana in sostituzione dell'infortunato guai muscolari per lui è entrato Lagana in sostituzione di quattrone se non andiamo pitassi esce pitassi dentro a quattrone sorbola l'arbitro purtroppo i giocatori hanno la memoria corta e dimenticano che in matematica uno più uno faccia due nella fuoca della partita hanno un improvviso abbassamento di memoria e spesso questo porta al cartellino rosso palla che spiove in aria palla in zona morta scaraventata alla meno peggio da Bertone manovra 100 in tandem col compagno di linea ancora 100 battaglia battaglia non è lì non è lì non è lì fermiti ma è una falla se è giusto fallo perché vado a protestare signore 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 non ci sono non ci sono i cartellini finito 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 l'ammonizione i rigori erano tre l'arbitro ne ha concesso solamente uno quattordici e venti borgo zero regio mediterranea uno ci sta provando in tutti i modi possibili e immaginabili la formazione di casa per pervenire al pareggio che non sarebbe scandaloso visto quello che ha fatto vedere nel primo tempo e anche nel secondo la squadra di casa ha fatto prevalere una supremazia territoriale e è andata spesso in pressing ma la dia vendata non è stata dalla sua parte fino a questo momento fermo restando i meriti dell'allenatore l'allenatore ospite che ha messo sul campo una signora squadra ben oliata in tutti gli ingranaggi difesa centrocampo e attacco la formazione di Bruno Leo ha rivendicato tre rigori uno concesso e segnato il secondo fallito e il terzo non ha segnato fa buona guardia mangiola spazza tutto come lo spazzaneve a curmaier madonna di campiglio e cortina d'ampezzo ancora mangiola il suo lancio verso Berrettone lo stop non è preciso non è perfetto con tutta calma Malara mette in movimento passaro che allarga sul settore di sinistra dove opera battaglia motorino a tutto campo un tiro dai 20 metri 25 metri telefonato che si spegne tra le braccia di Tringali Lumbia se ne va salta un paio di avversari come Berilli imperversano intanto le Spitfire va al tiro che non passa lontano dai pali dalla porta difesa da Tringali quando sono passati 17 minuti e 25 secondi nel secondo tempo il risultato a ride fino a questo momento ai colori reggini sta per entrare in campo a Zecri ma lascia Lucchietro ma parliamo Impartisce le ultime disposizioni tecniche l'arbitro, in presidenza era entrato anche nelle file locali, poi il suo ingresso Laganà, che avevamo dato quale new entry nelle file ospiti, invece si trattava di La Fauci, chiediamo scusa agli interessati e ai nostri telespettatori. Finisce a terra Romeo, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara a favore della formazione locale, che stringe ora i denti per venire al pareggio. Obinna, si impossessa Stefano Foti, il colpo di testa di Obinna, il lancio di Mangiola, la Fauci, questi passano per Dumbia, abbastanza pericoloso. L'esterno di fascia destra Dumbia, uno dei migliori fino a questo momento. attenzione, si fa ipnotizzare Obinna, aveva fatto fuori il suo diretto avversario, ma poi si è fatto ipnotizzare da Fosso, Borgo vicinissimo al gol del pareggio, che ci sta tutto per quello che ha fatto vedere nel primo tempo e anche nel secondo tempo, fermo restando i meriti della formazione della Regio Mediterranea. Le squadre hanno speso quasi tutta la birra che avevano in corpo nella prima frazione e anche nel secondo tempo, con le residue e energie si spingono in avanti, gli uni alla ricerca del raddoppio per mettere il sostato nel freezer e gli altri alla ricerca del pareggio. Una nota positiva per l'arbero, il signor Ivan Aliano della sezione di Reggio Calabria è uno che applica il regolamento e che sta molto attento alla distanza nei calci piazzati. Un ribaltamento di fronte, si smarca e riceve Tomasello, fa rimpallare il pallone tra le gambe di un avversario e conquista una rimessa laterale all'altezza della trequarti, lascia l'incarico a Dumbià. L'assist era di Tomasello. Il tiro di Passaro, tutto da dimenticare, un missile terraria che è passato ben lontano dai pali della porta difesa da Tringali. Questo lancio di Zerbi entra in aria, tiro. e non riesce a centrare lo specchio della porta. Si arrabbiano un po' tutti i giocatori, la panchina, la tribuna. Ancora una ghiotta, occasione d'oro per la formazione di casa. che le sta tentando tutte per per venire al pareggio che ci sta. 23 minuti e 50 secondi, sempre 1 a 0. impartisce le disposizioni il mister che ha già operato il suo pit stop, altrettanto ha fatto mister Cecio Napoli, quindi sono entrate in scena le Dunlop, le Kleber, le Bridgestone, Firestone, Michelin, come per dire forze fresche, sia da una parte che dall'altra. Allora, sia da una parte che dall'altra. 25-28 nel secondo tempo, sempre 1 a 0 per gli ospiti, punizione per la Regio Mediterranea. Un tiro cross che finisce nel buco nero della Galassia Nana. e allora la formazione di casa propone l'ennesimo tema offensivo. pallone e finisce nel sottostante balloncello del Marosimone. smorza di testa nella speranza di eludere la sorveglianza dei mastini Pitbull, Rottweiler si aiuta come può Lumbià. Il lancio di Tringali la palla è canarina dice l'arbitro. Ha diretto bene il signor Aliani questa è la nostra opinione alla quale non rinunceremo mai giusta o sbagliata che sia si aiuta come può Lumbià ma in maniera irregolare e l'arbero gli sventola un cartellino giallo. Manda a quel paese Ma io che sta zitto vai! Bravo Giuseppe gioca adesso lo fotte! ci abbiamo perso la mezz'ora nel secondo tempo la formazione di casa tenterà di capitalizzare al massimo la punizione quasi nei pressi della bandierina si accinge a battere Romeo l'arbero conta i passi vedi che ho un'iro no Zerbi Peppe! Vedi Giuseppe la simulata a stare vedi che sto dopo un matto c'è qualche po' di astio e rancore per falli precedenti intanto l'arbero ci piacque la distanza dell'arbero il signor Aliano di Reggio Calabria infatti vedete che mentre lui guarda da un'altra parte i furbetti del cartellino hanno già accorciato di un metro cosa che succede puntualmente tutte le partite finisce in posizione di offside Obinna contropiede contropiede Obinna si salva in due tempi Fosso gesto atletico e rarità e rarità balistica del fuoriclasse extracomunitario di casa Noaco Binna che ha esaltato le doti atletiche di Fosso si è salvato si è salvato in due tempi e per poco non passa al raddoppio la formazione ospite la sciabolata in diagonale ha carezzato la base del palo ha fatto come si dice in gergo la barba al palo shampoo sapone frizione capelli servizio completo insiste ancora in avanti la formazione di casa proiettata con tutti gli organici difensori centrocampiste attaccanti un forcing asfissiante si difende con ordine e anche con affanno rimane ancora a terra il portiere l'arbitro lo sollecita in possesso di palla Tomasello uno dei milioni in campo una bella ciabattata dal limite scagliata dal mezzo sinistro cento che ha sorvolato di una spanna la trasversale palla per Robinna ancora Robinna entra in tecli scivolato e con successo cento Robinna Robinna calcio d'angolo 33 minuti e 50 secondi nel secondo tempo sempre 1 a 0 l'unica rete del successo di battaglia c'è un contropiede affidato a Mangiola il suo cross palla oltre la linea di fondo nessuno va a raccoglierla l'arbitro se ne accorge spiove un secondo pallone si perde tempo l'arbitro l'arbitro indica che recupererà cerca di andarsene Tomasello ho visto tutto dice l'arbitro si può continuare l'arbitro obbina entra in aria tiro respinto dal difensore grossa occasione per pareggiare c'è un po' di concitazione in campo arriva il mister cecio Napoli a far da pacere non c'è spazio per big show John Cena Battista Undertaker Tiger Man e Ray Mysterio al massimo per le mascherine siamo a ridosso di carnevale quindi Pulcinella Lecchino Brighella Meneghino Rosaura Pantalone Gianduia Stenterello Meopatacca Rugantino il dottor Balanzone e Mastro Gilormo si scaldano gli animi anche in tribuna c'è un gran correre di qua e di là 38 minuti nel secondo tempo non crossa incredibile ma vero ha fatto tutto si è in testa al dito nel dribbling mentre c'erano 3-4 compagni al centro dell'aria che attendevano il pallone per scaraventarlo in fondo al sacco svanisce l'opportunità del pareggio ultimi scampoli di gara siamo a ridosso del quarantesimo saliamo beh saliamo palla dalle parti di Obinna ma il dribbling non a bocca l'avversario si sta giocando a velocità ultrasonica con questa palla anzi la difende bene Tomasello uno dei migliori il lancio finta e doppia finta non aggancia Bertone allunga i trampoli ma non può recuperare repentini capovolgimenti di pronte emozioni a tutta birra quando 41.30, 1.0 per la Reggio Mediterranea che sta per tornare sulle rive dello stretto con un prezioso ma meritato successo per quello che ha fatto vedere nel primo tempo e parte del secondo dove ha rivendicato in tutto tre rigori, due concessi, uno realizzato e l'altro neutralizzato. Obinna fa buona guardia questa volta, quattrone, ancora lui. De Filippo elude il possibile intervento di Obinna, conquista una punizione battaglia, lascia l'incarico a De Filippo, due minuti alla fine del match, sempre 1-0 per la Reggio Mediterranea, gol di battaglia su calcio di rigore. Non ha nulla da rimproverarsi il borgo grecanico, le ha tentate tutte per pareggiare. Forse ci stava anche qualche cosa di più del pareggio, ma il pallone non ha voluto saperne di finire in fondo al sacco, ormai la lucidità non è delle migliori. 44,15 punizione quanto mai preziosa per la Reggio Mediterranea che non ha nessuna voglia di velocizzare. L'arbitro conta i passi e c'è da giurare che questi siano 9,15 metri, forse qualcosa in più. Ecco un arbitro, lo voglio sottolineare ancora una volta, il signor Ivan Aliano di Reggio Calabria che fa rispettare la distanza. Cosa piuttosto rara, l'abbiamo segnalato tante volte a Franco Longo e Francesco Caserta Catona, ma pardon, regionale e provinciale, intanto c'è un'altra sostituzione, entra in campo e ruisse. Pardon, cloro. I numeri che abbiamo ricevuto sono molto approssimativi, abbiamo annotato alla meno peggio, ma spesso andiamo in confusione e prendiamo e diamo i numeri perché l'annotazione non può essere... Intanto è terminato a terra un giocatore afflitto da crampi, un giocatore ospite... Pomeriggio nero oramai... da un momento all'altro si accenderanno le luci perché la visibilità si va assottigliando rara e facendo... Scarpe vario pinte in campo, rosse, gialle, verdi... arancione, rosa, tutti i colori dell'arcobaleno... Entra in campo l'Adidas, la Nike, la Puma, la Ferragamo, Ogan, Riboc, Diadora, Superga, Lotto, Fila, Melluso... Sebbene ormai anche Prada, Missoni, Cavalli, Valentino, Versace, Gucci, Fendi, Armani, Trussardi, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Lacoste, Coco Chanel, Lacroix, Ungaro... Firmino di tutto, compreso le scarpette... Il Bonton regge fino all'ultimo... Siamo ormai al 48esimo e 50... Palla che spiove... Verso Bama... Pardone o Binna... Beh, una papara ogni tanto ci sta... Ultimi scampoli... L'arbitro concede un calcio d'angolo... Potrebbe essere questa l'ultima... Assalto furibondo... Arriva anche il portiere... Sono 22 giocatori in un pazzoletto di terra... Parte il traversone... Era un'occasione d'oro con 22 giocatori in un pazzoletto di terra... Ma anche stavolta... L'ha sprecata... Un giocatore rimasto dolorante a terra... C'è il cinquantesimo del secondo tempo... Un giocatore di casa... Claudicante si avvia verso il bordo campo... Assistito dal massaggiatore e dal compagno di signor Nuccio Suraci... Vedremo quanto recupererà l'arbitro con tutta questa perdita di tempo... Intanto entra in campo un altro giocatore... Di casa... Di casa... board... Traz safely su... Quando passa il pelletro anche su... onore disela qui... Tommetate la scuola... Dam uncommonità chi Volate through... AiSp bang... Tommetate la scuola... Second mano dell'attenzione... Ci basta... Val bene... Tommetate... palla che si impenna a campanile e proprio in questo momento 52.20 l'arbitro decreta la fine delle ostilità stavolta la Reggio Mediterranea con pieno merito ma un pareggio non avrebbe fatto gridare allo scandalo e alla vergogna l'unica rete è stata messa a segno da battaglia al settimo del primo tempo sul rigore il borgo grecanico ce l'ha messa tutta, ha tentato l'impossibile fino all'ultimo istante ma la fortuna non è stata dalla sua ha diretto bene il signor Ivan Naliano di Reggio Calabria vi ringraziamo per la cortesa attenzione alla linea torna allo studio centrale cioè al regista Bruno Taverna noi ci sentiamo fra qualche minuto per le interviste a bordo campo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti